Gli imprenditori balneari possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo anni di proteste, infatti, hanno appreso direttamente dall'ex commissario europeo Frederick Bolkestein che la direttiva sulla libera circolazione dei servizi in realtà è stata mal interpretata e non riguarda le spiagge. Non voglio commentare la legge italiana, ha spiegato Bolkestein durante un incontro a Montecitorio, ma per quanto mi riguarda le concessioni balneari non sono servizi, ma beni, dunque non sono previste gare pubbliche. Ora i parlamentari di centrodestra intendono bloccare l'applicazione della normativa, come è già successo in Spagna, Grecia e Croazia. Critiche e preoccupazioni da parte di sinistra italiana. Bolkestein probabilmente non conosce la specifica condizione in cui versa il mare di Roma, scrive Marco Possanzini. Qui il tema non è decidere se la concessione è un bene o un servizio, ma intervenire per ritirarla a chi ha commesso illegalità. Rimaniamo in attesa di un'indicazione espressa e formale da parte della Commissione europea. Nel frattempo, conclude Possanzini, chiediamo a Comune e Municipio di prendere una posizione netta al riguardo. Intanto per la terza estate consecutiva saranno i bagnini della Terra Pontina a curare i servizi di salvataggio sulle spiagge libere di Ostia. A loro si affiancheranno i marinai dell'ATI Isla Bonita.